Bandolo qui su Radio Radicale, l'appuntamento che insieme alla Fondazione Cerma e al Centro Enaudi portiamo avanti ogni settimana sulla nostra emittente occupandoci di temi diversi e cercando di trovare un filo da tirare insieme in un'attualità politica e economica che è sempre più complessa, questa volta visto che mentre andiamo in onda ci sono le votazioni aperte per le europee un voto importante per capire gli equilibri politici nazionali ma anche per ridisegnare il futuro del Parlamento europeo e anche delle prossime istituzioni europee con le conseguenti sfide economico, sociali, politiche che sono più stringenti, più complicate che mai tra le questioni geopolitiche, le questioni economiche e appunto questa inflazione che diciamo tiene allerta un po' tutti, soprattutto la Banca Centrale Europea. Cerchiamo di trovare in qualche modo un nesso tra gli argomenti caldi, soprattutto quelli su cui ci concentriamo quest'oggi di stampo economico, quindi come va l'economia europea, come va l'economia italiana, quali sono i dati più preoccupanti o quelli più incoraggianti e così come un'occhiata all'inflazione per cercare di collegarlo anche a quelli che potrebbero essere gli umori di questo voto e quanto questi argomenti potrebbero e potranno in qualche modo coinvolgere nelle scelte appunto i votanti un po' in ogni dove e quali a partire da questi indicatori, questi elementi potranno essere poi le scelte di chi governerà appunto, governerà le prossime istituzioni europee. Abbiamo per parlarne Camilla Conti, giornalista, esperta di politica e economia per il quotidiano La Verità, autrice anche di una bella rassegna stampa che tocca tanti temi ovviamente anche questi. Buon pomeriggio Camilla. Buon pomeriggio a voi. Grazie a Mario Seminerio, investitore professionale, blogger, commentatore molto noto anche qui su Radio Radicale, bloggerfastidio.net. Bentornato. Grazie per l'invito. Grazie a Dino Pesole, graditissimo ritorno, giornalista del Sole 24 Ore che è appunto esperto di politica e di politica economica. Grazie, grazie, ben ritrovati. Ci sono con noi il direttore del Centro Enaudi Giuseppe Russo, economista, ben trovato. Grazie a tutti, buongiorno. E ben trovato anche a Giorgio Alfaras che è economista e membro della Fondazione Cerme del Centro Enaudi Doppia Casacca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E allora, dopo aver scoperto i nostri ospiti, io partirei proprio dai miei amici giornalisti, partendo da Camilla Conti. Insomma, il voto, cioè, tra praticamente 48 ore sapremo, capiremo che area tira in Europa e capiremo anche quali saranno i temi che hanno più scaldato gli animi di chi ha votato e poi, conseguentemente, quelle che potranno essere contromosse dei partiti. Una campagna elettorale, almeno in Italia, con, insomma, qualche tono un po' scomposto, un po' sopra le righe, non sempre proprio neanche educatissimo, oserei dire, temi ciccia o china. Intanto, però, la situazione non è, insomma, sempre complicata. Al netto di alcuni dati che, guardando all'Italia, non vanno poi così male. Ci sono stati anche gli ultimi sull'occupazione in Italia, sull'Istat, sul aprile 2024, che va benino, insomma, non tanto bene sul tema dei conti pubblici, invece, insomma, teniamo sul PIL, ma, insomma, è un'Europa che, in sostanza, così come l'Italia, sul PIL non è brillante, cioè, insomma, è un po' a metà del guado. E c'è qualche dato, insomma, invece, un po' più scivoloso sull'inflazione, pare di capire, almeno dagli ultimi commenti. Sì, poi lascio i numeri ai colleghi e alle persone che sono molto più esperte di me su queste cose, lascio la voce, la palla, lancio la palla a loro. Perché è una puntata un po' di speculazione, diciamo così, lo dichiariamo. No, però, però tu sei stata, sei andata giù leggera dicendo, no, una campagna elettorale un po' agitata. La lascio, la lascio menare voi, diciamo. Ma una Cambogia che, vabbè, non che le altre campagne elettorali siano state delle scene eleganti, parafrasando qualcuno di tanto tempo fa, però diciamo che non, meno male che mancano solo 48 ore, perché non se ne poteva francamente più. Il problema è proprio quello che dicevi tu, cioè, per chi come noi, come me, come Dino, ma anche come tutti gli ospiti di oggi seguono con maggiore attenzione l'aspetto economico, l'aspetto finanziario, di economia e di finanza non si è sentito parlare in questa campagna elettorale. Di finanza, figuriamoci, ma a parte, vabbè, le relazioni, il governatore di Banca Italia, sto parlando proprio dei politici, della campagna elettorale fatta dalla politica, zero ma zero, zero, ma anche di economia, perché poi io, prima di collegarmi, per fare quella un po' secchione, per non arrivare proprio disarmata, sono andata a vedermi, a farmi una ricognizione un po' dei programmi, cioè dei punti economici nei programmi dei vari partiti. Al netto di condivido o non condivido, questo sta a ciascuno di noi, io non devo tifare, devo farla cronista, non sono una commentatrice, però, cioè, veramente, anche quando, e non entro nel dettaglio proprio per rimanere superpartes il più possibile, cioè, sono anche, sono proprio vaghi, ma questo un po' per tutti. Poi ci sono le posizioni che, per chi è più orientata al liberismo, come la sottoscritta e come chi parla, quindi, per natura, mi vengono i brividi, hai alcuni partiti e dici, oh, madonna, andrò a mettersi le mani ai capelli, perché più Stato, più Stato, più Stato. Però, poi, sono veramente all'acqua di rose, non si capisce, sono molto vaghi, gli aspetti economici, si parla molto di debito, si parla molto di patto di stabilità, manca sempre quella parolina dopo il patto di stabilità, no, patto di stabilità è crescita, cioè quella parola che manca sempre e che, invece, è fondamentale. Perché, evidentemente, diciamo, non ci sono neanche le idee chiare su come, esatto, su come crescere, si va avanti a colpi di incentivi, anche alla vigilia di questo voto e l'ennesimo ecobonus, gli incentivi per l'auto elettrica, insomma, si va avanti a colpi di incentivi. L'altro aspetto che riguarda più la finanza, guarda, stamattina ho visto, ho incontrato una persona che, insomma, fa il manager, un grande gruppo assicurativo, fra l'altro, e parlavamo, ma che cosa succede? Perché il risico langue, sia sul fronte bancario, sia su quello assicurativo finanziario in generale, lui mi diceva, guarda che è tutto fermo, sono tutti qua ad aspettare questo verdetto, a capire dove tirerà il vento, come cambierà l'Europa, perché poi non è solo il tema, come abbiamo visto negli ultimi giorni, disgraziati e sottolineo disgraziati di questa campagna elettorale, più Europa, meno Europa, sovranità, non sovranità, il problema è che Europa avremo, nessuno, nessuno, se non forse, guarda, qualcosa ho sentito dire da Calenna, ma degli altri veramente zero, ha detto, io votatemi perché io ho questa visione dell'Europa del futuro, io non ho capito dei singoli partiti che visione c'è dell'Europa del futuro, è chiaro che alcuni, per esempio i fratelli d'Italia, cioè la maggioranza attuale, non vuole più un'Europa come è così adesso, soprattutto il tema caldo è stato quello del tema green, quindi le politiche e la transizione energetica, che però su alcune posizioni vede anche d'accordo altri fronti opposti della maggioranza, che però dicono, guardate, sulla transizione green, così come è stata fatta, senza una valutazione dell'impatto a valle, non va bene, bisogna cambiare dall'impronta socialista alla Timmermans, per capirci, e quindi va cambiata l'Europa, però... Peraltro, green didda qui si stanno tutti un po', non dico smarcando, ma insomma è... Esatto, tardivamente, perché quando lo facevano quei giornalacci, per cui, tipo quello per cui scrivo, giornalaccio tra virgolette, perché per qualcuno è un giornalaccio, ah, i negazionisti, climatici, per mesi abbiamo contestato, chi vi parla, ma anche altri colleghi, come era stata fatta, come è stata improntata questa transizione energetica e l'impatto, e adesso qualcuno si sveglia, finalmente se ne accorge, siamo tutti contenti, però è lì che si gioca, secondo me, più la partita, poi per il resto zero assoluto, siamo veramente al circo, all'attacco estemporaneo, negli ultimi giorni l'abbiamo visto, e al countdown fate passare questi giorni più in fretta possibile, e poi, passato questo voto, ricomincerà un altro countdown per le elezioni in America, e lì si apre tutto un altro discorso, più orientato, uno sguardo verso la Fed, ma... Anche perché da quel voto forse dipenderanno anche tutta una serie di spese messe a bilancio anche per la nostra Europa, compreso quello della difesa. E tutto questo con due guerre che non si sa bene... Esatto, esatto, che fine faranno e che fine faremo, e tra l'altro, intanto grazie Camilla Conti arrivo a Dino Pesole, come promesso, insomma partiamo dai giornalisti per avere un po' un quadro e costruirlo insieme a loro, in questa matassa da sbrogliare. Qualche giorno fa, sempre qui su Radio Radicale, in un'altra trasmissione che ho avuto il piacere di moderare, c'era Ferruccio De Bortoli che ha detto, cioè il paradosso di queste elezioni che noi avremmo bisogno appunto di un'Europa più coesa, capace di essere più grande, sintetizzo, in realtà vediamo che tutti i candidati da una parte all'altro, senza distinzione di paese né di partito probabilmente, alla fine ci riportano nemmeno all'Europa delle patrie ma addirittura all'Europa delle comunità. Questo diciamo può avere un'accezione negativa o positiva, ma in questo momento probabilmente noi dovremmo dare almeno all'estero l'impressione di essere un po' più dentro alle sfide sotto vari punti di vista, tra l'altro spesso qui in trasmissione ricordiamo che ci sono al di là della marginalità su alcuni dossier dell'Italia, perché appunto su Automotive, Green Deal, Difesa Comune, Bilancio Comune diciamoci la verità, l'Italia può fare un partitone a livello politico, se ce la fa meloni, ma insomma in termini di capacità del paese di incidere c'è la palla, il boccino è a Germania e Francia, ecco. Però ci sono tre italiani che hanno detto qualcosa di importante su tutti questi dossier, soprattutto sul piano degli investimenti, Draghi, Letta, vi viene in mente anche Enrico Giovannini parlando del tema della sostenibilità. Insomma, quanto rischiamo di essere influenti o ininfluenti in tutto questo? Ma guarda, facciamo una rapida sintesi con qualche dato molto velocemente e io richiamo quello che ci ha detto il governatore Panetta per il discorso. Lui ha detto sostanzialmente che negli ultimi due decenni il peso dell'Unione Europea sul PIL globale è sceso dal 26 al 18%, mentre gli Stati Uniti l'hanno lasciato invariato al 26% e la Cina l'ha quadruplicato al 17%. E lui individua, secondo me correttamente, e questo è un tema assolutamente assente nella campagna elettorale e nel dibattito pubblico, il tema fondamentale dell'insufficiente dinamica della produttività, che è il ritardo di 20 punti rispetto agli Stati Uniti. Allora qua, soltanto queste tre piccoli riferimenti ci fanno capire della sfida che abbiamo davanti. Peccato che non se ne parli. Se poi guardiamo alle dinamiche interne italiane, anche qui nel corso della campagna elettorale, ma devo dire già prima che cominciasse, vabbè che siamo in campagna elettorale già da molti mesi, è totalmente scomparso dal dibattito pubblico un altro tema fondamentale che viene richiamato dalla Panetta, che riguarda quella che lui definisce la zavorra che ci costringe a impegnare considerevoli risorse pubbliche per pagare gli interessi, sottraendole all'innovazione, allo sviluppo. Queste sono le sue parole testuali. Stiamo parlando del debito pubblico. È ovvio che non è politicamente corretto parlarne in campagna elettorale, perché per affrontare un tema del genere poi bisogna spiegare come uscirne. Però per connettere i temi nazionali a quelli europei, io ricordo anche questo tema assolutamente assente dalla campagna elettorale, che noi abbiamo degli impegni. Abbiamo degli impegni che sono immediati, di cui non si parla. Il primo dei quali arriva tra qualche giorno, perché il 19 giugno la Commissione europea, è vero che saremo in buona compagnia, perché insieme a noi ci sono altri dieci paesi, aprirà una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo sui dati del disavanzo del deficit del 2023, che noi abbiamo chiuso al 7,4%. È vero che per ben due punti lo dobbiamo ai super bonus, però è un dato abbastanza allarmante. A distanza di due giorni, anche questo totalmente assente dal dibattito, arriverà dalla Commissione europea e poi ovviamente la palla passerà alla prossima Commissione, la cosiddetta traiettoia tecnica, vale a dire il quadro di riferimento, entro il quale poi il 20 di settembre il governo dovrà presentare il suo piano pluriennale di spesa primaria. Tutto questo fa pensare che noi dovremmo immaginare almeno una correzione che si colloca tra gli 8 e i 12 miliardi per rispettare le nuove regole europee, lo 0,5 del PIL che dobbiamo tagliare e poi dobbiamo rifinanziare tutte quelle misure che sono state introdotte quest'anno e che valgono solo per quest'anno. Mi ricollego alla decontribuzione per i reggi fino a 35 mila euro, l'IRPEF a tre aliquote e poi ci sono le spese indifferibili. A bocce ferme tra l'uno e l'altro stiamo parlando già di circa 30 miliardi. Allora dove reperire questa massa di risorse? Anche questo è un argomento assolutamente assente nel corso del dibattito. Però qualcuno direbbe che dobbiamo parlare di Europa, non dobbiamo parlare solo di Italia, però poi qualcuno dice che vogliamo l'Italia più europea e altri vogliono l'Europa più italiana. In questo modo si parla di Europa perché noi dovremmo attivare una trattativa con questa commissione, con la prossima e soprattutto con i governi e quindi sarà fondamentale stabilire quali equilibri si determineranno in seguito alle elezioni. Infine c'è il tema dell'inflazione che tu citavi all'inizio che sta là. È vero che il dato di maggio in Europa segnala un'inflazione che è salita al 2,6%. Stiamo molto lontani dai picchi dell'anno scorso fortunatamente e quindi questo fa immaginare che ci sarà effettivamente una svolta speriamo prolungata nella politica monetaria, cioè con l'abbassamento dei tassi e questo dovrebbe compensarlo. Segnalo solo altri due dati finali, che anche questi andrebbero segnalati all'attenzione del dibattito pubblico, non molti sanno che nel 2025 il nostro debito pubblico supererà i 3.000 miliardi di euro. E questo vorrà dire che saremo attorno al 140, secondo la Commissione europea, sì 141,7, secondo il governo 138, però più o meno siamo là, è che nel 2026, i dati del governo, noi pagheremo circa 100 miliardi di interessi sul debito. Allora, non per fare, come dire, allarmismo da quattro soldi. Cito sempre Panetta, il quale dice io non vorrei credere che un paese come l'Italia che ha risorse enormi non ce la faccia superare questo frangente complicato. Anch'io penso che ci siano le risorse per farlo, ma per farlo bisogna immaginare una ricetta che a questo punto non è solo italiana ma europea, ecco che si connettono i temi, che riporti finalmente il tema della crescita, della produttività in cima all'agenda politica, cosa che non vedo francamente. Grazie Dino Pesole, io mi allaccio proprio al tema inflazione, stime di primavera della Commissione europea, poi appunto anche le parole di Isabel Schnabel del board dell'Eurotower che nonostante diciamo l'inflazione sia piano piano appunto si sia piano piano ritirata e con ad aprile appunto i prezzi al consumo del club euro sono rimasti stabili al 2,4% come registrato già a marzo, però c'è qualche timore di un rialzo che potrebbe poi rallentare appunto il taglio dei tassi. Voglio chiedere appunto a Mario Seminerio che cosa si prevede da quelle parti, ovviamente facendo tesoro delle parole, un po' degli input dati sia da Camilla Conti che da Dino Pesole e anche quanto il tema economico secondo Seminerio potrà in qualche modo influenzare questo voto europeo che apparentemente diciamo è tra in auto da temi più grandi, da sfide più grandi, transizione green e geopolitica fondamentalmente. Ma credo che dopo il taglio della BCE di giugno che è una sorta di calcio d'inizio da parte dei membri dell'esecutivo ci sia soprattutto Schnabel ma non solo perché anche altri con accenti diversi hanno rimarcato che non ci sarà il pilota automatico nei tagli nel senso che non ci saranno tagli in sequenza. Quindi resta tutto abbastanza subiudice e questo sicuramente è un problema soprattutto per quelli che in Italia si sono messi in testa che i tassi devono precipitare e tornare a zero da dove provengono. Forse prima si tolgono dalla mente questa ideuzza e meglio è per tutti perché capisco gli universi alternativi però c'è un limite anche alla fantasia. Quindi questo è il primo punto. È chiaro che la situazione è cambiata soprattutto per quanto riguarda l'Europa che è alle prese con quelle che io definisco le 3D. Quindi decarbonizzazione in senso lato, deglobalizzazione nel senso non di morte della globalizzazione perché non è avvenuta e non avverrà, quindi le notizie di morte della globalizzazione sono grandemente esagerate ma sicuramente di un reshaping, di un cambio di forma che incide sulla pressione inflazionistica al netto diciamo delle crisi e delle criticità geopolitiche e ultimo difesa, nel senso che comunque c'è un enorme fabbisogno di spesa che in Europa deve essere apprestata per decarbonizzazione, per reggere l'impatto inflazionistico della deglobalizzazione e dei protezionismi incrociati e la spesa per la difesa. Chi metterà questi soldi resta un mistero perché sono importi da far tremare le vene ai polsi. Quindi se andiamo rapidamente senza nessuna pretesa di esaustività, a guardare i programmi elettorali, ma io ho guardato a mia volta qualcosa più che altro ho guardato il partito di maggioranza relativa, ne ho anche discusso nel mio podcast. Quello che mi ha colpito molto è che praticamente è una continua richiesta di deficit, sempre la famosa modalità dateceli sordi, che come dico io, che mal si attaglia. Comunque segnaliamo che c'è ancora in corso il PNRR, diciamo già non ne parliamo più. No ma questa è la cosa più sfiziosa, non riuscire ad arrivare in fondo al PNRR a mendicare come avverrà una proroga dopo il 2026 e contemporaneamente il partito di maggioranza relativa. Ma non solo, chiede tali e tanti impegni collettivi finanziari, che ci può stare per l'amor del cielo, ma altro che bilancio dell'unione all'1% del PIL. Qui servirebbe un 3% e questa cosa, oltre a dire poi possiamo, abbiamo bisogno di fare più deficit, scorporiamo le spese, addirittura le spese per la natalità, cioè scorporiamo tutto come da miglior tradizione italiana. Queste cose, ripeto, mal si adattano a un partito orgogliosamente sovranista, o meglio, c'è un partito sovranista in Italia che è una clamorosa eccezione, perché tutti gli altri partiti sovranisti europei, altro che allargare il bilancio dell'Unione Europea, vorrebbero accettarlo nel senso di prenderlo a colpi di accetta. Quindi già c'è questa singolarità di un partito sovranista che chiede gli sordi a oltranza. Poi ci sono delle situazioni che sinceramente mi trovo esilaranti, come per esempio questo accento comune dei due ex di Oscuri, Calenda e Renzi, con il MES sanitario, che non esiste più da un anno e mezzo, e questi vanno avanti a chiedere il MES sanitario. Presto qualcuno chiederà loro se il MES sanitario è nella stanza con loro, perché praticamente questo è il tipo di discorso che si sta facendo. Il PD, proseguendo nella sua tradizione, chiede un gigantesco sure per gestire la transizione tecnologica e quindi gli impatti occupazionali, ma anche qui chi paga e in quale misura paga. Questo è il punto. Io noto generalmente nei programmi elettorali italiani una costante e ossessiva richiesta di deficit e di soldi. Praticamente chi ne chiede di più in nome, come dire, della solidarietà? Chi ne chiede di più in nome del famoso detto siamo sovrani, aiutateci? Che anche questo è un prodotto tipico italiano. E quindi non so francamente comandrà fine. Poi vedremo il destino di von der Leyen, perché sulla carta, guardando i sondaggi e il numero di seggi, già usare la vecchia maggioranza, il blocco originario, quindi popolari, socialisti e liberali di Renew starebbe sui 400, quindi ne servirebbero 361, ma visto che von der Leyen è specialista a essere impallinata da franchitiratori ovunque il suo nome venga messo ai voti, c'è poco da stare tranquilli. No, ma un papa che rischia di uscire cardinale. Sì, esatto, esatto. Quindi diciamo che ci sono tutte queste incognite sulle quali politicamente Giorgia Meloni gioca moltissimo, nel senso che lei è convinta di riuscire a diventare il pivote Europa e però attenti a quel che desiderate, perché potrebbe avverarsi, perché se il pivote Europa lo va a fare come vorrebbe farlo Marine Le Pen, praticamente noi nel giro di un paio d'anni avremmo la distruzione del mercato unico, no? A colpi di protezionismo e a ruota verrebbe giù anche la moneta unica. Per cui, come dire, si cammina su un sentiero estremamente stretto, però per fortuna la commedia dell'arte che c'è nel dibattito politico italiano ci rallegra e ci tiene un po' la mente sgombra da tutte queste preoccupazioni che sono sempre più pesanti. Insomma, c'è una differenza tra la politica e le politiche e poi il cabaret che abbiamo visto insomma nelle ultime settimane. Grazie Mario Seminero. Arrivo a Giuseppe Russo e poi a Giorgio Arfaras per capire appunto che aria tira sui temi economici in Europa, su quelle che possono essere le strategie per rimettere al centro un'Europa protagonista. Pare di capire insomma anche dalla nostra conversazione che di idee i partiti ne hanno davvero pochine. Non ti sentiamo Giuseppe, ecco vediamo di alzare un po' l'audio o di togliere le cuffie altrimenti... no. Non ti sentiamo. Con le cuffie tolte? Ecco, perfetto. Adesso mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Va bene. Ok. Ma allora la mia impressione è che si siano svolte delle elezioni per diciamo non determinare il futuro dell'Europa ma per contare in qualche modo il consenso delle forze politiche nei paesi. Questo è successo quasi sicuramente in Italia. È una deriva abbastanza normale, cioè quando si va alle elezioni europee alla fine la campagna elettorale è fatta sugli elettori locali e i temi sono sempre quelli della politica nazionale. E ovviamente siccome il voto viene raccolto localmente quello che succede è che si tende a privilegiare il campanile di casa propria rispetto alla dimensione comunitaria e la dimensione europea. Ovviamente i partiti hanno commesso per l'ennesima volta l'errore di non fare con un largo anticipo dei programmi europei e educare in questo modo un po' l'opinione pubblica. Non hanno portato in qualche modo i loro candidati ad esprimersi su questi temi e del resto la politica i partiti hanno sempre chiesto molto poco ai deputati europei. Io voto in un collegio che ha eletto 20 euro deputati, credo di averne visto uno forse nella mia città circolare ogni tanto, gli altri sostanzialmente sono assenti, quindi anche quando poi vengono eletti non si capisce bene esattamente che cosa facciano. Questo non vuol dire che l'elezione non sia importante per i destini dell'Europa. Credo che condivido le preoccupazioni sulla finanza pubblica espresse sia da Seminerio che da Dino Pesole e da Camilla Conti, sono tutte estremamente serie. Quello che sta succedendo è che l'economia spontaneamente sta andando un po' meglio delle previsioni. Questo quantomeno in Italia un po' non ce l'ospettavamo. Nonostante tutto e tutti. L'economia gira indipendentemente dagli economisti. La domanda che viene da fare è anche indipendentemente dai bonus? No, non gira indipendentemente dai bonus, ma i bonus hanno un costo e non è detto che alla fine l'effetto netto sia... Che il conto venga pari almeno. Esatto, che il conto venga pari. Ecco, questo non c'è dubbio, anche perché tutte le risorse che vengono spese in bonus sono sottratte alla spesa privata futura perché sono tasse future e tutta la spesa privata futura non è detto che abbia una efficienza inferiore a quella della spesa per i bonus. I bonus e la spesa pubblica hanno senso nel momento in cui il ciclo economico va male, ma nel momento in cui il ciclo economico va bene, la spesa pubblica dovrebbe essere riportata sotto controllo, almeno questo dicono i libri. Ecco, io questo discuto, voglio dire, questo si vede molto bene in tutte le piattaforme politiche, cioè i partiti amano spendere e si è persa completamente di vista sia non solo la questione dell'equilibrio del bilancio pubblico, che tra l'altro ha anche diversi riferimenti costituzionali, ma si è anche persa di vista la questione della ciclicità. Mentre l'economia sostanzialmente marcia, si potrebbe tranquillamente in qualche modo fare un bilancio pubblico no conservativo. Invece l'idea fondamentale è che più la spesa pubblica cresce e più i trasferimenti pubblici aumentano, poi alla fine più le cose vanno bene. In realtà prima o poi arriverà il conto da pagare, anche perché il sistema di finanziamento dei deficit avviene in questo momento attraverso il mercato. Non è detto che ci sarà un next quantitativism, cioè che la banca centrale comprerà i BTP prossimi venturi e quindi prima o poi il mercato sostanzialmente presenterà conto sotto forma di maggiori tassi di interesse oppure sotto altre forme. Quindi questo è estremamente negativo. Quindi in qualche modo abbiamo una politica un po' che ha attratto dalla pandemia la lezione che tutto si può fare e che i vincoli non esistono più e invece i vincoli esistono. Non c'è da augurarsi certo un'altra pandemia per vederli eventualmente saltare. Grazie Giuseppe Russo, arrivo a Giorgio Alfaras. A lui il compito anche un po' di tirare le somme, oltre che ovviamente dirci come la pensa, quanto importanti sono queste elezioni europee e quanto questi temi, un po' economico-sociali, peseranno su questo voto in corso? Immaginiamo i due temi maggiori, o almeno quelli che secondo me sono i due temi maggiori. Il primo è la ristrutturazione dell'economia europea che deve diventare competitiva con quella statunitense e cinese, senza stare a entrare troppo nel merito. Cioè sostanzialmente le cose che dicono Letta e Draghi. Va bene? Quindi non è che non si sa che cosa fare, basta prendere questi due documenti e leggerseli. E sono cose poi di buon senso alla fine, non è che ci sia chissà quale rivelazione. La domanda diventa ma perché queste cose così di buon senso che vengono elencate con tanta pazienza non si materializzano mai. Seconda domanda, abbiamo bisogno dell'esercito per tutta una serie di ragioni, l'aggressione di Putin, l'arrivo di Trump, quello che volete voi. Quindi un esercito europeo ci sta e perché allora non viene fatto. La spiegazione del perché non si applicano le ricette letto-draghiane e la ragione per cui non si applica la ricetta dell'esercito unico alla fine secondo me è molto semplice. E cioè che l'Europa non è un'unità politica, cioè non c'è il demos europeo. Esiste il demos nei diversi paesi. Allora l'esercito europeo può avere il vantaggio di mettere in comune la produzione di armi perché così avresti delle economie di scala ma è difficile che mette in comune gli eserciti. In che lingua si parlano e chi li comanda. La stessa cosa vale per il dragolettismo. Per quale motivo tutti si dovrebbero mettere d'accordo sulla transizione ecologica quando ogni paese europeo vuole che gli altri non abbiano il proprio campione nazionale. Perché di nuovo? Perché non c'è il demos. Il demos che non c'è quindi non hai tutti si blocchiano a vicenda sul campione nazionale altrui. Tutti dicono a Dio l'esercito chi lo fa e chi non lo fa. Finisce che la legittimità ritorna a essere al demos di ognuno dei paesi. Il che poi spiega questa cosa buffa che veniva detta prima e cioè che sia gli europeisti sia i patrioti nazionalisti non europeisti alla fine dicono la stessa cosa. E cioè i nazionalisti non vogliono l'Europa ma vogliono più spesa europea. E diciamo così gli europeisti vogliono più spesa europea qualificata ma entrambi vogliono la spesa e nessuno parla di imposte. Perché l'Europa dovrebbe spendere le imposte dovrebbe spendere molto di più sia in versione diciamo nazionalista sia in versione europeista senza sapere da dove tira fuori le imposte. E se si discutesse di dove tira fuori le imposte tornerebbero i demos. Per cui il demos fratelli d'Italia vuole che le imposte le paghino gli olandesi e gli olandesi non vogliono paghino le imposte. E torniamo al demos. D'accordo? Quindi il discorso secondo me è poco sportivo a prensa con queste elezioni. Nel senso che evidentemente la campagna elettorale fa ridere. Dai tappi in bocca che poi però non li hai. Cioè sono cose così perché la vera discussione non è affrontabile. Nel senso che la vera discussione è il vecchio sogno di Monet. Non è affrontabile perché è troppo difficile perché diciamo anche la qualità della classe politica insomma è quello che è. Ma io sulla storia della classe politica la sua qualità insomma adesso voglio dire. Ci vogliono anche noi idee e strumenti per affrontare le sfide. Sì ma le idee ci sono. Il problema è che le idee sono quelle che leggendo Draghi non è o Letta. Non bisogna inventarci altro. Ce le dà qualcuno che ha fatto i compiti a casa. E che siamo in un mondo completamente diverso da quello di una volta dove era più facile governare. E le persone fanno fatica a digerirlo poi. Ma e mancano i soldi scusate però principalmente. Perché poi le idee di Draghi e anche Letta. Ora anche Draghi la pacchetta macina non ce l'ha avuta neanche lui. Perché infatti ha detto che ci servono 500 miliardi l'anno di investimenti privati tra l'altro. Sono d'accordo ma il motivo per cui non ci sono più i soldi è che diciamo le aspettative crescenti hanno incrementato veramente tanto. Perché è un'economia che è andata a finora di inerzia. Cioè non è che come dire De Gasperi era austero e invece la melone. No è come quando ti accorgi che. In De Gasperi l'80% degli italiani aveva la licenza elementare o meno. È come quando tu vedi che altri si stanno facendo in quanto e tu non puoi più campare. di rendita in posizione detta proprio. Però quello che voglio dire è che non è sportivo come direbbero gli inglesi. Non sport. Pensala con il livello bassissimo dei politici. Perché i problemi ci sarebbero anche se ci fosse Churchill e De Gasperi. Questo voglio dire. Assolutamente. Per tornare da capo. Siccome non puoi dire che il problema dell'Europa è il Demos perché è lì il punto. Sì però quelli diciamo hanno anche affrontato le guerre mondiali. Noi non riesciamo neanche a capire cosa dobbiamo fare con l'Ucraina. No? Sì. Non è mia. È di Limpiavo. No perché era molto bella. Devo dire. Era molto bella. No. Il ministro degli esteri loro. Sì. Perché faceva il traffic con Kissinger. Quindi quello che voglio dire è che le elezioni europee vanno prese così. Cum grano sadis. E vedremo. Io per esempio voterò a favore dell'Europa della spesa tecnologica dell'esercito europeo sapendo bellissimo quello che vi ho detto perché l'alternativa mi farebbe venire i brividi. Cioè che io voglio le nazionaliste mi fa star male. Lo troverei inelegante. Quindi pur sapendo che il problema sono i diversi demos io voto a favore di fare un salto in avanti sapendo che è un salto triplo capiato. Grazie Giorgio Alfaras. Diciamo che chiudiamo così e poi ci ritroviamo per capire davvero queste votazioni come sono andate. Anzi vi prenoto già per un secondo round se ci state. Io vi ringrazio. Ringrazio Dino Pesole, Camille Laconte, Mario Seminerio, Giuseppe Russo e Giorgio Alfaras. Buon voto e vedremo quali altri matasse dopo il voto dovremo sbrogliare qui al bandolo e qui su Radio Radicale. Alla prossima.